La sede municipale di Pieve del Comune di Alpago ha aperto le sue porte agli studenti delle classi seconde medie dei plessi di Puossefarra dell'Istituto Comprensivo di Alpago per una mattinata dedicata alla scoperta del funzionamento dell'amministrazione comunale. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, progetto sorto nell'ex Comune di Pieve d'Alpago ma in quegli anni dedicato agli studenti delle scuole elementari. Il nuovo Comune di Alpago ha voluto sviluppare l'idea coinvolgendo gli studenti delle medie per accrescere in loro l'interesse verso le istituzioni e stimolare i giovani al confronto su argomenti e tematiche di interesse comune, lavorando assieme alle insegnanti all'interno delle ore scolastiche. Durante la visita al municipio i ragazzi hanno incontrato il sindaco Soccalle e il vice sindaco De Francesc che li hanno accompagnati durante la visita agli uffici, tra cui l'ufficio anagrafe dove i giovani hanno potuto vedere come vengono realizzate le nuove carte d'identità elettroniche. Molta la curiosità e molte le domande fatte dai ragazzi agli amministratori sui meccanismi che regolano la vita di un comune. La visita è stata una delle tappe del percorso che porterà i giovani alla stesura dello statuto che andrà a regolare le attività del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi che riprenderà la sua attività nel prossimo anno. La mattinata ha fornito ai ragazzi anche l'occasione di vedere il progetto vincitore del bando per la realizzazione della nuova scuola media che sorgerà nell'area del plesso di Puos che è stato illustrato dagli architetti che lo hanno realizzato, Celeste Daboit e Gianluca Facchinelli.